Buongiorno ragazzi, episodio 106 stagione 4, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Intanto grazie mille a chi ieri un'altra volta ancora ragazzi, un'altra volta ancora ha provveduto a fare degli acquisti tramite il link affiliato di Amazon. Veramente una figata incredibile, quindi grazie mille. Ricordo che il link è diventeromilionario.it slash Amazon e comunque appunto questa scelta di fare questo tipo di link che riporta Amazon è stata una delle migliori perché da là sono schizzati i guadagni. Quindi veramente vuol dire che non è che le persone fossero prevenute sul fatto di farlo, è semplicemente che era una rottura di coglioni perché è vero, o hai in mente il link amaz.to slash bla bla bla, che nessuno sa e nessuno cerca ovviamente, che magari poi non è neanche cliccabile oppure gli dai un link perfetto che si può tenere a mente e con quello ovviamente una persona ci pensa e appena fa un acquisto dice ah cavolo e aspetta che vado tramite quello che poi è la stessa roba però a me arriva una piccola commissione. Quindi veramente ogni tanto basta pochissimo per cambiare le sorti di una situazione. Quindi questa è stata un'ottima idea. Ovviamente come al solito bisogna sempre provare, riprovare, riprovare, riprovare finché non se ne viene fuori con un'idea interessante. Quindi può essere che 100 idee le scarti ma una è quella che ti fa svoltare un po' come questo podcast, ho provato 100 e 100 cose. Una, in realtà l'unica tra queste 100 che mi è tornata utile anzi che sta portando avanti il tutto è quella del podcast però non provando 100 cose questa probabilmente non sarebbe venuta fuori. Quindi il suggerimento di oggi iniziale è provare, provare, provare e qualcosa di buono verrà fuori però finché non si prova non si sa e più si sbaglia più si capisce dove andare a parare per centrare il bersaglio. Quindi ragazzi buttatevi, fatelo, provate che tanto male che vada imparate qualcosa. Bene che vada vi trovate tra le mani qualcosa di veramente utile che vi farà crescere. Quindi ci sta, ci sta. Buttatevi, fatelo perché la vita è fatta per provare. Detto questo iniziamo l'episodio di oggi perché? Perché ieri mi è venuta un'idea, cioè ieri allora vi spoiler che sto scrivendo un libro sono giunto a buon punto, l'ho scritto di getto in una settimana, ieri prima di andare a fare le ultime rifiniture ho detto boh mi prendo un giorno di pausa dalla scrittura perché voglio lasciare un attimo decantare le idee intanto l'ho mandato, ho fatto leggere un paio di persone per avere dei feedback eccetera eccetera quindi ieri mi sono trovato una giornata libera da scrittura in sostanza quindi ho detto cosa fare? Complice anche il fatto che dopo l'asilo, l'asilo è andata mia moglie a prendere mia figlia e poi è andata a fare dello shopping tra una cosa e l'altra è stata da sua mamma a mangiare da mia suocera a mangiare quindi è tornata a casa tardi. Avevo alla fine tutto il giorno libero quindi dalle 9 fino alle 21 in pratica sono stato a casa da solo e cosa ho deciso di fare? perché ovviamente scrivere articoli sì boh ma non mi convincevano, fare un video su youtube sì boh era giovedì ma comunque avevo già fatto l'unboxing quindi il video ce l'ho in testa, non so se farlo oggi o farlo la settimana prossima, vedremo il da farsi. In ogni caso una cosa che ho come spada di Damocle pendente sopra di me era quella di sistemare veramente tutte le cose che ho sparse per la casa a livello di cose comprate tempo fa, giocattoli buttati là che non so se servono, non so se no che di sicuro non uso, oppure oggetti che li guardo e dico no beh ma sto qua è una figata cioè non me ne voglio privare, poi in realtà ti rendi conto che non lo guardi mai, non lo usi mai per anni quindi non ha nessun senso tenerlo a casa. Quindi ieri mattina dopo un po' mi sono messo a fare un po' di cernita tra i miei oggetti e me ne sono venuto fuori con un'idea, ho detto sai cosa vaffanculo vado in soffitta, vado in casa, prendo tutto quello che c'è che mi riguarda e che non so cosa farmene e voglio alleggerirmi quindi voglio o venderlo o regalarlo o buttarlo via quindi cosa ho fatto? Ho preso tutto, grazie anche al fatto che adesso appunto ho un simile ufficio comunque una stanza di vita ufficio al piano di sotto che posso gestirmi come voglio l'ho riempita e strariempita di oggetti di tutti i tipi e mi sono messo là sono stato dalle 11 fino alle 21 quindi fino alle 9 a fare questa cosa qua con l'unica sola idea quella di dire ok adesso parto e metto in vendita cosa quello che stasera non avrò messo in vendita lo butto via di conseguenza mi sono messo là ogni cosa che guardavo verso le 7 iniziavo a dire vabbè sto qua non c'ho voglia no guarda che se non lo metto in vendita lo butto via quindi ho messo in vendita l'impossibile di tutto e di più ma a livello proprio di anche pentole anche libretti per distruzioni per il Lego se vedevo che c'era un minimo di mercato ad esempio venivano venduti sui 6-7 euro li buttavo dentro tanto la lettera costa centesimi la spedizione postale costa 2 euro e qualcosa per oggetti del genere quindi lo buttavo là anche se comunque c'è un minimo guadagno o non c'è comunque un guadagno buttar via le cose è sempre brutto anche se vabbè i libretti sono di carta la ricicla 100% va bene comunque mi dava fastidio quindi ho preferito fare quel super lavoro di dire ok metto in vendita le cose non importa il guadagno importa è liberarsi la mia vita liberare la mia mente da questo tipo di oggetti e di conseguenza voglio essere veramente ripartire venerdì quindi oggi proprio con un senso di leggerezza di libertà perché alla fine gli oggetti ragazzi come abbiamo già detto sono solamente servono solamente per per renderci schiavi ok e per complicare molto di più la nostra vita dopo vi farò un esempio che tra l'altro sarà il fulcro del video youtube che farò non so quando non so se oggi o la prossima settimana comunque ragazzi questa è veramente la verità perché come abbiamo detto tu lo hai là lo guardi o se non lo guardi sai che c'è l'hai ci pensi dici eh però quello eh no ma quello se lo vedi quanti soldi che ci farò quando lo vendo per realtà non lo metti in vendita quando lo metti in vendita ti rendi conto che è una cagata e di conseguenza non non monetizzerai mai e di conseguenza devi abbassare il prezzo di conseguenza ti deludi di conseguenza sei arrabbiato sei intristito dici ah ma allora tutte le altre robe che ho sono non valgono niente neanche quell'altra quindi cosa fare cosa non fare e vivi veramente pensando degli oggetti che che mai userai che hai che però non sai cosa fartene e così vivendo però vivi nel passato non vivi nel presente nel futuro vivi con delle cose che hai che hai comprato pensi all'atto di comprare che è stato sciocco eccetera eccetera e così non ti proietti mai verso il futuro verso migliorare ti aggrappi a tutto quello che hai già a tutti i tuoi possedimenti materiali e ti fossilizzi e ti focalizzi lì di conseguenza non ne trai nulla di nulla di buono invece appunto quello che ho detto io è stato diventare un po' francescano quindi liberarmi di tutti i miei beni materiali perché alla fine ragazzi il ragionamento unico e fondamentale è quello che a parte le persone sono ovviamente rapporti con le persone che sono fondamentali gli oggetti assolutamente non sono fondamentali tra le cose materiali che che possiamo annoverare in questo momento del nostro percorso quella più importante è ovviamente il il vil denaro perché perché ci serve perché dobbiamo arrivare a questa soglia di centomila intanto iniziare già a liberare la mente perché quantomeno anche se non dovessi guadagnare ma regalare tutto quanto meno mi sarei liberato sicuramente sopra l'armadio nella camera e qualche cassetto e uno sgabuzzino e qualche parte in mansada perché poi quando parti a fare ordine trovi veramente di tutto e di più ogni volta che andavo in mansada c'è sì bo sta roba qua la tengo che tanto sta roba qua non la metto in vendita che tanto quindi quindi ho deciso di fare tutto 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 ieri è stato messo in vendita tutto e tutto è nato da questa consapevolezza ragazzi che adesso vi racconto questa storia e spero che vi faccia riflettere vi faccia cambiare un po il modo di fare acquisti e di vedere le cose e soprattutto di capire che non è mai troppo tardi per per cambiare idea cosa succede succede che quando ancora compravo lego come se non ci fossero domani forte dello stipendio quindi c'è chi se ne frega spendo soldi e bo e del mio percorso sul milione ci penserò al mese prossimo avevo comprato tre mini figure lego celebrative ventennali di star wars ok di un set che ne comprende cinque e ne ho comprate tre perché gli altri due ovviamente sempre con la mentalità inizia una cosa e poi non la porto a termine ne ho comprate tre su cinque dicendo vabbè no dagli altri due non ho voglia di comprarle bo comunque mi sono trovato con queste tre mini figure cosa è successo le ho esposte sulla scrivania bene sono là erano là che mi guardavano però ogni volta che le guardavo dicevo però sono tre il set da cinque è un peccato perché poi se le compro perché poi se le vendo perché poi è bellissimo perché poi tutti assieme mi daranno tutto un altro effetto un senso di essere compiuto quindi quindi bo e bo per un po di giorni ho tenuto a bada settimana scorsa no dai due settimane fa prima dei miei dei miei ragionamenti materialistici e no scusate minimalisti e ho detto beh dai vediamo quanto costano sì che uno uno costava tipo 20 euro un altro costava 60 euro che era assolutamente fuori mercato per me e ho visto che ne era apparso un sesto questo sesto veniva in una bustina sigillata quindi perché ancora una cosa ancora più particolare quindi aveva tentennato un po alla fine cosa ho fatto ho comprato sia quello da 20 euro che quell'altro in bustina sigillata da ora pagato tipo 18 euro parlo cosa una cosa del genere che non mi sembrava male perché ovviamente l'ultimo costava 60 euro quindi ho detto quello no però gli altri due sì fatalità una spedizione lentissima mi arrivano la settimana scorsa anzi sì la settimana scorsa invece quello in bustina sigillata mi è arrivato lunedì però l'ho ritirato l'ho ritirato lunedì sera quindi martedì mattina sono arrivato sono arrivato la in ufficio in ufficio al piano di sotto ho preso in mano questa bustina e ho fatto per aprirla per unirla alle altre alle altre che erano già presenti no quindi ho detto vai finalmente arrivata l'ora quello che stavo sognando da tempo si sta per realizzare a lungo po la la mia catena di minifigure collezionabili ragione in più stavo per aprire la bustina e ho detto ma che senso ha a farlo cioè se la apro perde tutto il valore che ha se la tengo chiusa mi mantiene il valore forse può guadagnare forse non ne perde troppo comunque riesco a rivenderla senza troppo senza smenarci troppi soldi tutto questo perché da quando l'avevo comprata quando mi è arrivata ho fatto tutto questo tipo di ragionamenti materialisti dove alla fine capisci che tutto quello che hai è solo un'illusione cioè quando arriverai ad avere un sacco di soldi tutto potrei ricomprartelo se è una cosa che ti ispira adesso la vedi mi secca un sacco separarmene però sappi che quando avrai tutti i soldi del mondo perché è lì dove stiamo andando potremmo comprarci qualsiasi cosa quindi veramente è stupido illusorio e ottuso non privarsi di una cosa adesso per monetizzare pensando che nel futuro ci farà guadagnare dei soldi o ci darà soddisfazioni personali e spirituali non è un cazzo vero perché i nostri oggetti che abbiamo adesso il 99 per cento non servono assolutamente a nulla se non appunto a complicare la nostra vita perché ho fatto ci sto facendo un episodio adesso saremo sui sei minuti parlando appunto di oggetti quindi devo ringraziarli da un lato perché mi hanno spinto a fare questo episodio ma dall'altra parte mi si va da sé che appunto sono veramente complessi e ogni ogni oggetto in più che compriamo appesantisce la nostra vita e ci ci rende ancora più schiavi perché vogliamo comprare ancora altro vogliamo non apprezziamo quello che abbiamo perché appunto se finché continui a comprare non ti fermi a riflettere su quello che hai o su quello che vorresti davvero vivi semplicemente pensando al prossimo acquisto che è veramente un gran problema comunque tornando a noi stavo per aprire questa borsa detto no sai cosa la tengo chiusa anzi la rivendo anzi le rivendo tutte queste minifigure di star wars e così facendo è partita appunto la mia la mia il mio mood di liberarmi di tutto perché perché tanto alla fine non è mai troppo tardi ragazzi anche se avete fatto un acquisto stupido se l'avete fatto su amazon quando vi arriva potete fare il reso non c'è nessun problema vi rimborsano se avete qualsiasi tipo di oggetto in casa ancora ad aprire perché vi siete resi conto che l'avete comprato ma in realtà non volete comprarlo in realtà era solo per togliervi uno sfizio ed è ancora chiuso lo mettete in vendita è morta lì molto probabilmente riuscirete a vendere se l'avete aperto quella già un po più un problema però provate a mettere le vendite su ebay io l'ho fatto anche con molti prodotti aperti e adesso vedo ho deciso che li metti in vendita adesso perché il periodo natalizio è ottimo per vendere le peggio cose se entro fine gennaio non sono stati venduti ovviamente continuo ad abbassare il prezzo man mano quando non arriva più a essere profittevole cioè ci perdo nel senso che la spedizione mi costa di più di tutti gli eventuali guadagni allora basta lo cancello da ebay e lo butto via perché perché così si fa bisogna liberarsi delle cose se riesco a venderlo vuol dire che quantomeno ho monetizzato qualcosa se non ho guadagnato quantomeno sono andato in pari e quindi sono riuscito a liberarmi di un oggetto in sostanza riciclandolo dandolo a qualcun altro che lo userà o che lo rivenderà a sua volta che comunque andrà a complicare la sua vita perché la nostra si è si è semplificata di molto liberandoci di tutti i nostri beni e in realtà ragazzi la cosa più bella ecco è la seguente che ho notato ieri sera perché perché voi direte ma che palle ho passare una giornata intera a mettere in vendita immondizia per tirar su cose vuoi 10 20 euro 30 euro anche 100 euro e poi avere la rottura di dover fare i pacchi spedire magari c'è qualcosa che non arriva rottura di coglioni varie eccetera eccetera effettivamente è vero e anche io la pensavo così poi ieri sera però sono andato sono andato in iniziato a navigare in internet per svagarmi un attimo e ho notato una cosa interessantissima è vero che se tu passi tutta la giornata metti in vendita oggetti o comunque se tu hai una mentalità del dire voglio liberarmi dei beni voglio vendere e guardi tutte le cose che hai in giro dicendo ma quello lo compro l'ho comprato mi serve sì quello ho comprato mi serve potrei vendere potrei buttarlo via potrei liberarmi che tanto non mi serve se questa è la tua nuova visione quando pensi a fare un acquisto non hai più con lo stimolo di dir sì che figata compro quella cosa là poi la metto là perché in realtà hai già hai già truffato tra virgolette la tua mente facendolo sapere che tu sei una persona che vuole essere leggera che vuole vendere più che comprare ha una mentalità totalmente opposta rispetto a quello che è il sistema attuale e quindi la tua mente quando vede e sente parlare o sente ti sente pensare di acquisti dice ma no che coglioni gli acquisti che poi devi andare a venderli se non ti servono quindi bada bene a quello che vuoi acquistare perché poi in realtà hai visto quello che abbiamo fatto tutto il giorno è stato vendere quindi non ha nessun senso che tu abbia voglia di acquistare dei beni perché è una assurdità gli ammissi vendita finora non fare stronzate tienti i soldi e piuttosto investili o compra cripto fai qualsiasi cosa o lasciali là nei risparmi visto che tra l'altro ti servono per vivere quindi non far puttanate e questo esempio qua mi è servito sia perché appunto stavo navigando e mi è apparso un po' di pubblicità di prodotti che solitamente non è che compro ovviamente però mi stimolano un po' di voglia no chiaramente le pubblicità sono fatte apposta però ieri veramente una nausea totale dal pensare di comprare delle cose di riceverle scartarle e poi doverle rimettere in vendita quindi veramente veramente male e un'altra cosa che mi ha fatto capire di essere sulla buona strada per per non voler più comprare cose inutili è il fatto che un mio amico adesso è alla lego house quindi non so di preciso dove sia direi billund ma non vorrei dire una stronzata e mi ha detto ora se vuoi qualcosa dimmi e allora ovviamente tempo fa giorni fa mi ero messo a cercare prodotti esclusivi lego house vedere per poterli rivendere eccetera eccetera poi pensavo sarebbe bello qualche palla natalizia da prendere all'albero ieri mi ha scritto allora come siamo c'è qualche novità e proprio veramente mi veniva da vomitare al pensiero che mi portasse qualcosa perché perché appunto questa nuova mentalità mi fa mi fa capire che bisogna liberarsi delle cose così facendo ragazzi appunto non guadagnerete soldi cioè ovviamente sicuramente non vi arricchirete sicuramente forse non guadagnerete neanche più di 200 euro molto probabilmente farete pacchi eccetera ma questo sforzo vi farà capire che comprare oggetti non è la soluzione anzi comprare oggetti è un problema che vi creerà altri problemi dopo a parte l'insoddisfazione dell'acquisto ma anche dopo il dovere rivenderlo per liberare spazio dover buttarlo via comunque è sempre un problema una rottura questo ovviamente a meno di non avere prodotti che ci servono che sono fondamentali per il nostro per il nostro sviluppo però chi può dire cosa è fondamentale in realtà solo noi e questo ci è anche utile per capire per per focalizzarci per conoscerci meglio capire cosa effettivamente ci serve e cosa proprio non ha nessun senso che che compriamo che portiamo nella nostra vita perché non ci darà nessun valore quindi ragazzi in questo periodo almeno del mio percorso ma se siete avvicini al mio percorso anche nel vostro il soldo vince su tutto perché il soldo investito rende mentre un oggetto comprato che è là non rende bene che vada ci fa rientrare della spesa ma sicuramente ci ha appesantito parte del percorso della nostra vita detto questo per chiudere soldo investimento e guadagni ieri è partita l'altra tranche di di pieno di accumulo di bitcoin ed eterno quindi altri 50 50 euro andati e anche questa è una figata perché appunto come detto agli inizi è una cosa che va in automatico non devo pensarci in realtà la prima settimana non vedevo l'ora che arrivasse giovedì la seconda sì dai mi sono ricordato vagamente la terza proprio ieri mi è arrivata la mail guarda che abbiamo comprato a posto bene bene tutti contenti ma proprio non ci penso neanche più quindi anche questo alleggerisce la vita ragazzi dobbiamo veramente arrivare a una modalità nel quale pensiamo solamente come ha scritto toto nel nel gruppo telegram giustamente capire cosa da soddisfazione nella nostra vita adesso in questo momento non pensare nel futuro cosa faremo quando saremo ricchi adesso viviamo nel presente cosa ci dà felicità adesso 99 per cento i prodotti che compriamo non ce ne danno quindi possiamo liberarcene in realtà possiamo delegare molte scelte ai sistemi sistemi informatici come pieni di accumulo eccetera eccetera quindi abbiamo più tempo per pensare per noi che anche un bene o male perché perché se pensi a te è un'attività che è difficile da fare non siamo forse neanche più abituati a farlo e di conseguenza per quello che cerchiamo distrazioni in altri in netflix in amazon eccetera eccetera però se iniziamo a fare un po' di attività fisica con noi stessi vediamo che detto che ci sembra brutto però attività mentale con noi stessi vediamo che alla lunga riusciamo a capire veramente cosa ci dà felicità e riusciamo ad avere una vita molto più felice molto più soddisfacente con meno cose e con più soldi quindi veramente incredibile come la soddisfazione reale porta in realtà ad avere più soldi più guadagni e quindi questo è veramente il contrario di quello che ti vendono però è così ragazzi è così spero che questo episodio sia stato bello interessante sono giacomo diventerò un milionario in sei anni niente quello che vorrei passare so che la soddisfazione personale ragazzi è faticosa anche quella ma non perché sia faticosa di sua perché non siamo più abituati a a a farsi delle domande quindi ragazzi veramente fermatevi guardatevi in giro vendete quello che che non vi serve o buttatelo via o fate qualsiasi cosa o regalatelo portatelo non so dovunque vogliate però liberatele perché poi appunto come abbiamo visto vi dà un senso di libertà e fa capire che comprare non è la soluzione quindi oggi non spammerò neanche il link di amazon ah beh l'ho fatto in inizio episodio ma fatelo con con un grano salis penso che sia così che si dica così no poi scusate torno sull'argomento perché cioè ieri mi sono trovato per le mani un sacco di cose che non mi ricordavano anche più di avere di aver comprato e che avevo comprato con l'esatto scopo di mettere sulla scrivania perché è quando avrò un ufficio è quando lavorerò da casa sarà una figata avere questa cosa sulla scrivania la guarderò mi ricorderò di questa cosa qua in realtà non mi ricordo un cazzo è solo che mi dà mi appesantisce quindi certe cose le ho le ho messe in mente certe altre le ho guardate ho guardato quanto le vendevano e la buttate via ma veramente un sacchetto pieno tra cose rotte tutto un casino veramente ragazzi fatelo perché vi vi svolta la vita so che è difficile trovare una giornata libera intera dedicare questa cosa soprattutto se avete un lavoro dipendente quindi avete solo il weekend a casa però magari un giorno vi capita se siete se convivete la compagna va via se avete famiglia la moglie va via con i figli per una giornata pensate veramente di evitare netflix e cagate varie e di e di mettervi là veramente dalla mattina fino alla sera alla notte a fare ordine sulla vostra sui vostri oggetti che poi un po fare ordine sulla vostra vita quindi pensateci ragazzi ciao ciao anzi fatemi sapere su gruppo tele che non cosa ne pensate perché sono veramente interessato ai vostri ragionamenti e noi ci sentiamo lunedì sono giacomo diventerò milionario in sei anni e viva la libertà finanziaria oggi concludo come come conclude il timido viva bitcoin viva cash flow viva libertà finanziaria ciao ciao